Il ponte di Casal Maggiore rimane ancora chiuso da diversi giorni per decisione delle province di Cremona e di Parma a causa del cedimento delle travi sul lato parmense. Era stato un agricoltore a dare l'allarme notando vibrazioni insolite al passaggio col trattore. Le lesioni delle strutture dovute al tempo all'ogoramento dei materiali sono risultate però più gravi del previsto pur dopo i lavori eseguiti nel 2010 con una spesa di circa 10 milioni di euro. Così ora tutti i ponti della provincia di Cremona sono in cattive condizioni. I veicoli che transitano ogni giorno dal ponte sul Po di Casal Maggiore per recarsi a Parma, almeno 12 mila al giorno compresi molti mezzi pesanti, devono infatti recarsi a Via Dana dove passano con senso unico alternato per i lavori in corso oppure attraversando il grande fiume a San Daniele Po, con senso unico alternato ancora per lavori in corso, mentre anche il ponte fra Cremona e Castelvetro nei giorni scorsi è stato temporaneamente chiuso dall'amministrazione provinciale. Proteste da parte della Confesercenti per i danni subiti dalle imprese e le lamentele anche da parte del consigliere comunale di Casal Maggiore Orlando Ferroni della maggioranza perché non è stato chiamato il genio pontieri per un controllo e una soluzione in tempi brevi. La richiesta principale è di realizzare un ponte mobile in tempi rapidi. Immaginiamo questa situazione durante l'inverno col ponte ancora chiuso, con le nebbie e il ghiaccio. Quanti costi questa situazione comporterà al nostro territorio o meglio ancora ai nostri cittadini? I consiglieri regionali del PD Agostino Alloni e Marco Carra da parte loro chiedono alla regione Lombardia ed Emilia Romagna di intervenire finanziando i lavori rapidamente con risorse aggiuntive. Grandi lamentele soprattutto da parte dei pendolari e delle imprese della zona di Casal Maggiore, costrette ad allungare il viaggio verso Colorno e Parma di 40 minuti con una spesa in carburante di 15 euro al giorno, come è stato calcolato.